Con Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto, per il progetto Borsa del Turismo Centro Italia. Mula, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Sì, è un'ottima iniziativa. San Benedetto, senza nessuna presunzione, anche perché lo ha dimostrato, si propone come città capofila per quanto riguarda l'accoglienza, ricordo non solo quella turistica, ma anche sociale e solidale, perché noi abbiamo avuto due anni fa il sisma, San Benedetto ha accolto tutte queste popolazioni, nonostante queste difficoltà, siamo confermati regina delle Marche per quanto riguarda le presenze. Abbiamo una bandiera blu consolidata e questo è frutto di una collaborazione, di un lavoro continuo e molto diffuso sul territorio, quindi servizi ottimali, pulizia non solo della spiaggia, ma di tutta la città, decoro e quant'altro. Quindi benvengano iniziative come queste del Mula, benvengano sinergie, si parla di quattro regioni dove la regione Marche con il fiore all'occhiello San Benedetto del Tronto sicuramente potrà dire la sua. Noi abbiamo questa volontà di riportare il nostro territorio ad essere meta di tanti turisti offrendo, e lo stiamo facendo con iniziative che spaziano da quelle rivolte ai più giovani a quelle magari che si rifanno agli anni Sessanta, per dare un'offerta completa e devo dire che tutte le sere la città è invasa, in modo ordinato ma molto convinto da tante persone, non solo turisti, ma anche persone del territorio. Ecco il perché, prima parlavo senza nessuna presunzione, di San Benedetto, città capofila, perché è una opportunità per il territorio, una opportunità per la regione Marche e sicuramente una meta ambita da tanti italiani e stranieri.